Non mi far vedere che tortura, che tortura questa campagna elettorale. Speriamo che finisca presto. D'Alema reagisce, risponde di qualcosa. Il problema oggi di questo paese è che dei giudici che sono nella magistratura perseguono degli avversari politici e non dovrebbe in un paese che vuole essere democratico essere consentito e che è impegnato ideologicamente possa aprire delle inchieste e giudicare colui che considera un nemico politico. Questo è il momento drammatico. D'Alema rispondi. Non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci.